Ben ritrovati cari amici voglio parlarvi di un'esperienza veramente piacevole che ho avuto come sapete ogni settimana sulla sezione premium del nostro canale alla quale vi invito ad abbonarvi perché cominciano ad esserci un bel numero di contenuti come sapete contenuti che riguardano ovviamente il calcio ma che spaziano dall'approfondimento dell'attualità alle storie anche ai retroscena del mio lavoro di giornalista bene sulla sezione premium ogni settimana vi porto un dialogo con un protagonista del mondo del calcio che sia giocatore allenatore dirigente agente o in programma anche delle delle belle novità soprattutto per il periodo natalizio o che siano giornalisti persone che il calcio lo raccontano come me e questa settimana sono riuscito a contattare ho avuto il grande piacere di ospitare sulla sezione premium del nostro canale Antonio Nocerino vi confesso una cosa ero convinto di fare con lui un dialogo prettamente diciamo di approfondimento sulle tematiche del calcio italiano il milan il suo milan il milan del suo vecchio compagno ebraimovic che guida la classifica ma anche il napoli di gattuso un'altra figura che conosce molto bene pirlo come nuovo allenatore della juventus la nazionale con cui è arrivato secondo agli europei nel 2012 l'inter Antonio Conte sui problemi pensavo di parlare di calcio fondamentalmente con Antonio Nocerino e in effetti lo abbiamo fatto perché ad esempio guardate vi regalo un'anticipazione guardate cosa mi ha detto su ibraimovic sul perché ibraimovic oggi è ancora un giocatore assolutamente dominante completo è molto più completo perché prima ovviamente in giovane età tu fisicamente puoi anche evitare determinate posizioni tanto ci arrivi con la forza con la corsa col cuore adesso usi più la testa vai a guardare più lo spazio ma lo guardi molto in anticipo vai a leggere la giocata molto prima questa l'hai praticata sul campo e ci sei arrivato ovviamente ibra era un mostro prima ed è un mostro adesso però adesso è molto più completo come l'ha acquistata praticandola non c'è età per per imparare non c'è età io penso che l'età sia solo un numero ma si può imparare a 10 a 15 a 40 a 5 ogni giorno c'è da imparare si può imparare in qualsiasi io imparo tutti i giorni dai miei figli per esempio e quindi questo è e c'è sempre da imparare e ibra lo lo vedi che adesso è molto più completo guarda molto più la posizione perché ovviamente lui dice se fisicamente non potevo correre se prima correvo 15 volte adesso ne corro 6 ma ma bene che 15 male capito e allora e allora però quelle 6 possono sopperire a quelle 15 di una volta che che le facevi a mille all'ora bene abbiamo parlato di questi aspetti tra l'altro sul milan mi ha detto anche altre cose che credo centrino centrino perfettamente l'attualità rossonera così com'è mi ha dato una visione molto interessante del momento in generale della figura di antonio conte all'inter è andato dentro alla carica che gattuso da napoli ha disegnato prospettive molto interessanti per per la nazionale e anche su pirlo sulla juventus insomma ha detto cose non da zero a zero tanto per intenderci però come vi dicevo mi ha sorpreso la discussione che è venuto fuori a sorpreso forse non è la parola giusta mi ha mi ha riempito mi ha mi ha veramente reso felice perché si è tratteggiato un discorso che è andato oltre anche i gli aspetti meramente puramente calcistici ne è emersa una figura estremamente interessante perché antonio nocerino forse non lo non lo sanno tutti attualmente ha iniziato la sua seconda carriera calcistica vuole diventare un allenatore lo sente e sta iniziando non in italia ma negli stati uniti dove è andato a finire la carriera da calciatore ha iniziato allenando le giovanili a orlando nell'orlando city e il suo percorso è molto ben delineato non solo per gli obiettivi che si pone e parliamo di uno che ha dimostrato di essere un vincente di voler arrivare in alto di voler superare anche dei limiti nella sua carriera di calciatore ma per le linee filosofiche direi quasi della sua visione per il calcio il modo in cui vuole lavorare quello che vuole trasmettere attualmente ai suoi ragazzi e in futuro magari glielo auguro veramente di tutto cuore ai giocatori professionisti che andrà ad allenare e su questo piano davvero è venuto fuori un dialogo che che non mi aspettavo così potente per cui vi dico vi regalo prima di tutto un'altra un'altra anticipazione perché poi ho voluto iniziare anche dall'universo del calcio statunitense mi incuriosiva questa cosa tastare veramente il polso a questo movimento che continua ad avere delle potenzialità enormi ma che chiaramente anche schiacciato da veri i propri colossi che sono altri sport nel mondo usa il football americano il baseball il basket ovviamente tutte tutte le discipline che hanno più storie più tradizione di conseguenza più presa nei confronti del pubblico però se analizziamo il calcio statunitense cominciamo a vedere giocatori a stelle strisce nei principali club d'europa e sicuramente chi si interessa anche un po di più al calcio giovanile sa che il movimento sta sta producendo talenti molto interessanti ci sono prospettive particolari ci sono prospettive decisamente baldanzose per quanto riguarda il calcio degli stati uniti per cui ho voluto chiedergli anche come lo vede qual è la realtà al momento negli usa per quanto riguarda il soccer e lui mi ha risposto tante cose vi vi lascio un estratto fra i più interessanti che che mi ha detto io io penso una cosa che la cosa più importante e per queste per queste generazioni siano gli allenatori perché gli allenatori si formano per poi arrivare nelle prime squadre o come detto te nelle nazionali preparato qui purtroppo non tutti gli allenatori hanno le competenze perché qua purtroppo guardano tanto il curriculum non guardano la competenza a volte dicono ah ma non è esperienza ma se tu sai di quello che stai parlando e hai competenza l'esperienza la fai sul campo non è importante l'esperienza viene viene praticando ma la competenza spiegare bene quello che tu stai facendo è molto importante se io ti devo parlare di una cosa che non so non posso parlare io parlo di quello che so di quello che non so lo studio ascolto cerco di apprendere più possibile poi quando mi sto avvicinando nel capire provo a confrontarmi insomma una discussione veramente a tutto tondo e il lato umano anche anche la metodologia proprio dell'antonio nocerino giocatore mi ha colpito per cui vi ho voluto portare queste piccole anticipazioni trovate la nostra chiacchierata completa come sempre una chiacchierata lunga una chiacchierata profonda una chiacchierata varia sulla sezione premium in descrizione tutti i riferimenti per abbonarsi e davvero vi dico andate ad esplorare questo mondo perché sto innanzitutto trovando anche personalmente la possibilità di ampliare di ampliare la mia mente di ampliare i miei orizzonti attraverso le tante chiacchierate che ho fatto e poi vi dico non solo c'è già un buon numero di contenuti ma ne arriveranno ancora di particolari nei prossimi tempi soprattutto durante le feste voglio continuare ad esplorare le varie figure del mondo del calcio quindi il calciatore l'allenatore il dirigente anche anche le figure che intervengono magari non direttamente sul campo ma che poi sono attori protagonisti del mondo del calcio e in questo senso vi porterò già la settimana prossima una figura del genere e poi insomma sotto natale soprattutto in questo natale molto particolare in cui dobbiamo ancora una volta per forza metterci in trincea dobbiamo vivere particolarmente le nostre situazioni situazioni che solitamente sono state segno di intimità di familiarità questo natale è un po' diverso e molto diverso da tutti gli altri però con le dinamiche dei tempi di oggi insomma a natale ci si mette attorno al cammino a raccontarsi storie e allora qualche storia particolare per natale arriverà nel frattempo vi auguro una buona giornata continuano i contenuti di grande calcio sul nostro canale perché oltretutto si continua a giocare abbiamo un weekend decisamente denso di grandi partite di grandi appuntamenti ne parleremo insieme sempre qui sul nostro canale vi aspetto prestissimo grazie a tutti